questo sarà il vostro miglior amico durante l'estate si tratta di un kit super economico diciamolo subito composto da questa power station da 154 watt ora e ben 41 mila 600 milliampere più un ottimo pannello solare pieghevole da 60 watt si richiude tutto in una sorta di borsetta e può essere trasportato comodamente in auto occupa davvero pochissimo spazio la power station in se è compatta sembra quasi una vecchia autoradio con un bel display semplice ma funzionale che ci indica input e output più ovviamente lo stato di carica della batteria abbiamo due porte usb a più una porta usb type c tutta ad alta velocità di ricarica fino ai 60 watt più una presa di corrente classica a cui potrete collegare praticamente qualsiasi cosa è dimenticavo c'è anche la ricarica wireless la ricarica solare funziona benissimo con un solo cavo ed è già tutto predisposto compreso l'alloggiamento per la power station tra l'altro abbiamo anche ulteriori porte usb sull'uscita del pannello solare sempre gradite e ovviamente la power station può essere comodamente ricaricata anche in casa con un semplice caricabatterie da cellulare e un cavo usb type c e tutto questo quanto costa beh ve l'ho detto inizio video ragazzi è davvero economico e conveniente il kit completo pannello solare da 60 watt più la power station viene poco meno di 200 euro invece la sola power station attorno ai 140 euro una buona cifra se consideriamo che solitamente un pannello solare di buona qualità ci viene a costare quanto questo intero kit è per acquistarla trovate tutti i link coupon e offerte che arriveranno nei prossimi giorni direttamente nel mio canale telegram ufficiale tech best deals linkato qui sotto in descrizione video primo link entrateci cercate all power generatore solare s 200 e troverete questo gioiellino insomma ragazzi cos'altro possa aggiungere energia gratis ad un prezzo super conveniente che voi volete utilizzarla in campeggio a mare o semplicemente in casa con un buon pannello solare per ricaricare i vostri alimentare i vostri dispositivi qui a bari inizia a fare davvero caldo direi che posso mettere anche il cappellino amici fatemi sapere ora voi cosa ne pensate lasciando un bel commento qui sotto un like per supportarmi condividete questo video ai vostri amici e se volete iscrivetevi qui sul mio canale per non perdervi i miei nuovi prossimi contenuti io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video sempre come vogliate sempre qui su addicts to tech alla prossima ciao belli ciao ciao ciao